Ma se è vero, è un giocatore che credo che nel 3-5-2 sia un giocatore che deve partire quasi sempre, poi magari possiamo poi cambiare il tipo di attaccante, però è il suo modo di giocare. Giochiamo così, lui è un giocatore che parte dall'inizio, giochiamo diversamente, credo che farà fatica. Quindi noi siamo contenti che lui si sia fatto torno pronto, ma non avevo dubbi, è un ragazzo fantastico. Anche lì tanti discorsi vengono sempre dall'esterno, mai dal nostro interno, in cui il rapporto è buono, perfetto. E sono molto molto contento di lui. Questa è una battuta, coincidenza di mercato all'ultimo giorno, Papu Gomez va all'Atalanta, noi prendiamo Xaviola. Direi che ci è andata bene, vedendo la partita di oggi, una battuta. Sì, ma le battute ci stanno, bisogna avere sempre equilibrio. E chiedo che abbiamo più noi equilibrio, invece chi ci si contorna tante volte l'equilibrio non sa neanche come è fatto e da dove arriva. Non mi interessano le chiacchiere, le parole, incontrano i fatti. I fatti di oggi sono importanti come quelli fatti in questi cinque anni.